Ciao ragazzi, prima di niente io vorrei ringraziare tutti quanti per essere qui, perché come già hanno detto alcuni qua, ci merita coraggio per essere qui. Come ha detto una persona della vostra storia molti anni fa, da oggi in poi abbiamo bisogno di tutto il nostro coraggio, di tutta la nostra fortalezza, perché noi stiamo qui lottando per un diritto. Noi non siamo cittadini A, B, C, non siamo gli altri, siamo cittadini italiani, siamo cittadini che abbiamo il diritto, sì, avere una famiglia, avere ugualianza e già basta semplicemente di vivere nel medioevo, di avere una mentalità chiusa, prima tutte le cose, basta già dell'intolleranza. È brutto che quando si parla di Italia al mondo la gente dica ma no, gli italiani sono omofobi, è brutto. Ascoltare e dire no, la società italiana è chiusa, ma noi stiamo qui per dimostrare che è nato un cambio e basta semplicemente. È vergognoso che in paesi dal terzo mondo come l'Argentina gli omosessuali si possono sposare. È vergognoso che in un paese dal terzo mondo come la Colombia una coppia omosessuale può adottare un bambino. E noi diciamo che siamo il primo mondo, che siamo civili e ci facciamo finta di avere un passato glorioso e tante altre cose, ma in materia civili stiamo semplicemente indietro. È l'ora di cambiare. Andiamo avanti ragazzi, piano piano. grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti.